Salve ragazzi, qui è Derix e oggi siamo qui su Tonglaire Rainbow Six Age Ragazzi, finalmente siamo sul canale dopo qualche mese ragazzi, mi vergogno pure io Ma almeno oggi sono tornato, anche dopo vari impegni ragazzi, tonnellate di impegni sono tornato qui sul canale La scuola è finita e andiamo a comandare No, basta Ragazzi, oggi siamo qui su Rainbow Vorrei fare una partita con voi, molti giocatori Sono rango 34, sì perché l'ho già iniziato e cose varie Come potete vedere la simulazione sono arrivata a 73% L'ho finita tutte 11 simulazioni Però possiamo fare molti giocatori e caccia terroristi Ragazzi, se volete un video con dei miei amici Possiamo farlo, basta che scrivete qui sotto nei commenti e lasciate like Ok, non ci perdiamo in chiacchiere e direi di iniziare un multigiocatore libera Perché classificata ancora non me la sento Allora, in questo gioco me la cavo Ma non sono granché Cioè sì, me la cavo, so uccidere, sono veloce Però Diciamo che Essendo il gioco molto difficile Mi sale il nazismo, ecco Ecco appunto Il nazismo Aspettiamo che qui Si faccia entrare in partita Ci mette 70 ore ad entrare in partita Porca puttana Ok ragazzi Siamo entrati Siamo la squadra arangione Contro la squadra blu E siamo in Brasile ragazzi Che talle Sta mappa la odio proprio Porca puttana Ogni volta che inizio a registrare Succede qualcosa di strano E cose Che mi capitano Proprio mappe tipo brute Allora direi di prendere Il dock Si dai col dock me la cavo In difesa In attacco invece Uso ash Ash è molto forte Ed è molto veloce Ve la consiglio molto Abbiamo cavaliere, squadra e frost Rock e bandit Buono 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 Andiamo Andiamo a vingerla signori 120 di connessione Ecco ragazzi Rock Rock Mi sa di un personaggio base Ecco Quindi ve lo consiglio Se non siete ancora esperti O cose varie Allora Uh Nel posto più merda d'Italia Guarda Allora qua direi di mettergli tipo Una specie di Acostissimo Barrichiamo ragazzi Perché qua Se non barrichiamo Dai Barrica Cancaro Se non barrichiamo Siamo come si suol dire Su nella merda Porca puttana Porca puttana Vaffanculo Va Me la fa piazzare Cazzo ne so che ha Piazzo qua Ragazzi Rainbow Mi piace un bot È il gioco preferito Quindi arriveranno Molti video Vabbè ragazzi A parte questo Direi di vingerla Cazzo ci va Frost Oh Dammi il trauma Ma pecco Dove cazzo stai Grazie Fai schifo Lo stesso Oh porco il cazzo No Porca di una merda Eh Raga Da dove minchia Mi hanno beccato Porca puttana Stiamo già perdendo Cazzo Minchia l'ho visto No Da dove Come cazzo hai fatto Tarce di merda Vaffanculo Eh che cazzo Dalla trave Porca puttana Con quale fisica Va Vai a morire Vai Il nemico Sta prendendo Ma è vaffanculo Ma vaffanculo Va Già iniziamo Già iniziamo Con gli scler E non mi piace Sta cosa Per questa volta Chiudo un occhio Cazzo Ma veramente Guarda Abbandonato pure uno Dio mio Raga no Io Io sclero Poi dice Che uno non deve sclerare Ma cazzo Non è possibile Non è possibile Dio mio Poi questo Un'ora Per scegliersi Un personaggio Ne recluta Vai a cagare Pure tu Va Sto a sudare Porca la recluta Porca la recluta Tua mamma Frost Tua mamma Porca caveira E vaffanculo E vaffanculo Va si scemo Questo è scemo Raga Veramente Che cazzo Spacchi Vabbè Dettaglio Che tra l'altro Sta su Sofrost di merda Qui non c'è nessuno Vero Sofai Coglione Bastardo Minchia Siamo rimasti Solo io Alla recluta Cazzo Dove cazzo Sono stato individuato Andi Porca puttana Mi sto Verano No No Bastardo Mi sono cacato Voi affanculo Figlio di puttana Guardalo Bastardo sei E chi t'aveva visto Dai Rega Cazzo Tutti L'avevo uccisi Porca puttana Vaffanculo Mi hanno fottuto Castle Raga Oh L'avevo uccisi Tutti Non potete Dì che non Ucciso Nessuno Ne ho uccisi Tre Cazzo Ne ho uccisi Tre Dovrei essere Primo Fanculo Raga Purtroppo La mia squadra Non sa giocare Non ci posso Far niente Io Ok raga Dobbiamo Dobbiamo Difendere Qua dobbiamo Possiamo Barricare Porca puttana Ma io direi Di fare così Guardate Intanto Questo muro Si barrica Tua mamma Tua mamma Tua mamma Ecco Tua mamma Figlio di Figlio di Figlio di Figlio di Puttana Cazzo Duro Oh raga Ci siamo Non penso Che possiamo Recuperare Però Si ce la può Fare Dai Porca Troia Va a fare Il cu Cosa Mi ha ucciso Lui Mi ha ucciso Il mio Figlio di Porco Porco il cazzo Raga Porco il cazzo Porco Porco il cazzo Lo capite Porco il cazzo Ecco Porco il cazzo Dio Mio Santo Dio Mio Santo Beh li sto Individuando Da tre ore Porca Puttana Oh Signori Round vinto Round vinto Signori Siamo secondi Possiamo recuperare ancora Signori Non è detto Possiamo recuperare Guarda che culo Che ha avuto Possiamo recuperare Ce la possiamo fare Signori Ce la possiamo fare Come al solito Prendiamo Ash Una squadra Di merda Ho capito Ma cazzo Ce la dobbiamo fare Porca Puttana Raga Io me la cavo bene Con Ash Perché è veloce Nei movimenti Come avete visto Ho fatto tre kill E le ho fatti Belle e buone Ma Io quando Sono morto Che la potevamo pure vincere Non potevo fare niente Raga Non è comparso da nulla Neanche se mi mettevo a correre Raga Non l'avevo proprio visto Cioè È stranissima Sta cosa Però Dai Porca puttana Cado col drone Figlio di puttana Mi ha messo il jammer Ma io Ti denunzio Io chiamo La polizia Sì Pronto Ma la sai C'è la ricetta Ah Non vi ho detto Che sto registrando Con PlayStation 4 Come al solito Ok Siamo partiti Scusate Sono stato individuato Porco Schifo Tua mamma Si mangia gli altri Ah Minchia Era un motore No Qui non c'è Aia Ma sei un idiota Porca E bana Porca Cazzo di corri L'ho ucciso Uno No Ho fatto assist Stavo la coglione Succhiamelo Eh Chi è che l'ha ucciso Ops Ops E comunque Sul canale Trovate Derix E no Federix Ho cambiato nome Purtroppo Sulla PlayStation Non si può Cambiare Dovrei fare Di nuovo Tutto l'account Quindi Andiamo a comandare Comunque L'abbiamo recuperata Signori Possiamo Vincerla Attenzione Possiamo Vincerla Se mi impegno Signori Possiamo Vincerla Possiamo Vincerla Porco Il cazzo Perché minchia Giro così tanto Attorno Cazzarola Dai Dai Vala Ho trovato Ma che cazzo Pensavo io Pensavo che era qua Raga Oh C'è cavaira C'è cavaira Buttani Sono una puttana Bagaccia Gemmer Di merda Dai possiamo Farcela Signori Possiamo Oh Ma te devi Levati in mezzo Prima ti faccio Esplodere Ma Tra l'altro Non è qua Do cazzo Do cazzo Stavo Mi stavo Uccidendo Il mio alleato Cazzo Oh Raga Non è qua Come Sì Porca puttana Round vinto Vai Raga Siamo arrivati Secondi Dai Raga Va bene Lo stesso Siamo arrivati Secondi Con 4 kill 3565 Punti Raga Appostissimo Appostissimo A dire poco Ragazzi Appostissimo A dire poco Perfetto Da 2 a 0 Signori A 3 a 2 Incredibile 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 Abbandoniamo Ok ragazzi Io spero Che il video Vi sia piaciuto Commentate Iscrivetevi al canale Lasciate like Mi raccomando E se volete Un altro episodio Anche se non lasciate like Ve lo porto lo stesso Perché il rainbow Nel cuore Raga Bella ragazzi